Buongiorno amici, sono tornato, eh? Dopo tutto un autunno passato, ragazzi sentite qualcosa? Vabbè già avete visto, sentite qualcosa? Eh? Ragazzi oggi sono naturalmente in Molise, cioè spettacolare, guardate qua Ragazzi oggi ho fatto un touch and go, una puntatina sfiziosa, carina, nel Molise che piace Però la neve l'aspettavamo, molti di voi non piace la neve, invece guardate l'aspetto positivo, guardate un po' Poi vi faccio un po' di immagini Grazie Ora draghetti, ragazzi, grande umidità, torriamoci perché Qua è uno spettacolo, guardate, guardate Guardate dove siamo Adesso Vi farò vedere qualcosa di carino, molto bello Vedete i Molise, non ve lo scordate, vedete i Molise Dobbiamo, allora velocity Vi farò bene Grazie a tutti. Grazie a tutti. Ma cosa mi dice questo? È una cosa che ogni volta mi lascia senza parole. Qua ci sono le panche, potete sostare, fino a quando c'è acqua, perché penso che a giugno, quest'estate, ad agosto non ce l'ha più niente. Comunque ragazzi, qua siamo nel Molise, nel Matese, fa pure rima, e precisamente alla cascata del Rio, venite in Molise alla cascata del Rio. Poi vi dico dove sta, intanto scopritela. Guardate qua. Aspettate. Guardate. Sarà un 50 metri alta sta cosa. Bellissimo, è un bel fiume. A presto.